bene, buonasera a tutti grazie per essere intervenuti a questo workshop ringrazio Gabriele Gabriele Ranfagni che ha organizzato e condurrà appunto questo workshop per l'associazione Brander Italia Gabriele, insomma introduciti e per me possiamo anche iniziare, grazie allora, ciao a tutti io sono appunto Gabriele Ranfagni e sono supervisor il Red Monk a Milano ho lavorato per molti anni, diciamo nell'animazione, da circa una trentina d'anni adesso, sono nell'animazione prima 2D, poi 3D diciamo sono specializzato in creature, quindi è per questo che faccio uno workshop su creature e tra i progetti su cui ho lavorato appunto si è un'opera Napoleon dove ho fatto supervisione sui sulle sequenze di battaglia di Waterloo Toulon e sulle sequenze di Mosca House of the Dragon Ant-Man eccetera quindi diciamo sono riuscito un po' a toccare tutti i vari settori dell'animazione appunto dal 2D fino al 3D passando per VFX Feature TV Series eccetera e sono specializzato in workflow ovvero anche nello studio dove lavoro formo diciamo i miei animatori dandoli appunto una formazione di workflow cos'è il workflow? il workflow è il metodo che si usa la metodologia per animare con il corretto workflow si riesce a animare praticamente tutto e è un workflow che io ho diciamo estrapolato da tutti questi anni di esperienza per cui ho dato anche delle classi nei vari studi eccetera eccetera dove facevo demo come questa e facciamo stasera questo è un rig tra l'altro che io vi consiglio di scaricare è a uso tra l'altro è a uso commerciale ed è un rig che ha messo a disposizione VFX Grace e e che praticamente ricalca gli standard che si usano nei rig dei film quindi useremo questo faremo una camminata semplice vedremo come cercare le reference importarle studiarle e come creare animazioni e quali tool usare per poterle importare attenzione possiamo anche non usare nessun tool va bene tra l'altro blender ha questa cosa bellissima per cui a differenza di Maya non copia i pose in base a una selezione ma copia i pose in base al nome dei vari bones dei vari dei vari joint vabbè dello scheletro in questo caso come viene chiamato in blender dell'armatura quindi voi potete anche aprire il vostro file fare un copia di tutta l'animazione riaprire un altro file e fare un incolla e funzionerà questi sono dei vantaggi i blender però ci sono anche altre cose altri script che costano tra l'altro che sono gratuiti o costano veramente poco che hanno cose molto interessanti come librerie che si usano appunto in produzione poi appunto ora andremo a vedere nello specifico se avete delle domande chiedete pure perché sono qua quindi se non avete capito delle cose eccetera si spiegano e partiremo appunto scusami un utente ci ha fatto richiesta se puoi attivare lo screencast che hai non so se lo conosci no cos'è per far vedere i tasti se vuoi evitare perché magari non conosci questo tipo di di tool se gentilmente quando utilizzi i tasti se li puoi annunciare contro ok ok perfetto io ho nelle preference quello lo standard lo standard dove è dove è king up l'industria compatible standard perché usando vari vari software se no mi incasino anche perché io uso nello stesso momento Maya Blender ZBrush e substance cioè quindi a volte passo su crit e uso tasti quindi però ve le dico certamente e vi dico anche quello che faccio nel senso quando dare una chiave su tutto e perché anche che è molto che è fondamentale anche gli errori da non fare soprattutto quando si guarda una reference ok vabbè intanto partiamo dal discorso del blocking ovvero la struttura base dell'animazione intanto noi qui finiamo il nostro layout facciamo una camera ok andiamo in metodo object add camera quindi qui creo ecco vabbè niente qui creo un'altra finestra e mi muovo con la camera in questo modo quindi mi prendo la mia camera e faccio la faccio come selezione attiva ok quindi vado qua e me la muovo in modo da averla ovviamente questa camera ha una una focale molto molto strana quindi io di solito lavoro con 50 ok quando si tratta di scene del genere però vabbè le focali diciamo che presentano un discorso a parte però diciamo che le focali ovviamente più sono grosse alte più aprono l'immagine ok 50 è una focale standard per un layout in modo da non avere nessuna deformazione quindi facciamo la nostra camera mettiamolo più o meno così ok perfetto a questo punto torniamo nella nostra noi abbiamo questo mettiamola anche un po' più diamo un po' più di respiro ok abbiamo questo maiale che deve nella mia idea appunto fare un'animazione semplice comunque deve camminare arrivare qui e mangiare va bene mettiamo appunto 250 frame che sono comunque più o meno 10 secondi perché lavorando ovviamente a 24 frame il secondo si ha più o meno all'incirca 200 10 secondi e mezzo la prima cosa che faccio è attivare l'auto key ok perché questo era uno degli incubi quando si lavorava su 3d studio max che l'auto key bisognava ricordarci di qui tra l'altro si fa si leva e l'auto key è fondamentale in modo che voi praticamente animate e basta ovvero muovete il vostro modello senza stare tutte le volte a premere il tasto in questo caso il mio è S che metto una chiave però la prima chiave che io faccio ovviamente con S è su tutto su tutto il maiale e a questo punto io la seconda cosa che faccio è trovarmi le reference che mi servono allora la mia scena sarà strutturata di due azioni principali questo è il metodo anche che si usa negli studi in realtà negli studi si lavora con cicli e azioni attraverso le librerie perché ed è un metodo che io uso anche nei miei shot personali perché perché è fondamentale che si divida le azioni una alla volta in modo da potersi concentrare su una azione alla volta questo cosa determina sono due vantaggi il primo vantaggio è la qualità nel senso che io mi concentrerò prima sulla camminata e poi ovviamente unirò la camminata alla mangiata nella stessa scena ma in questo modo io dividerò la mia scena in due azioni e quindi potrò concentrarmi sulla camminata e basta il secondo vantaggio è che io quella camminata la la dovrò riusare se faccio due o tre scene quindi il fatto di farmi una lista delle azioni principali quello che poi viene nelle produzioni viene chiamato preproduzione mi servirà appunto per avere un'organizzazione pulita della mia scena ok e una volta stabilito l'azione c ho bisogno mi vado a cercare le mie reference allora come avete visto le reference io uso youtube ok sì io uso un set standard che è che è quello che poi usavo su Maya considerate che io ho usato per più di vent'anni Maya quindi riprogrammarmi è un po' difficile anche perché comunque la mattina lavoro con Maya la sera lavoro con Blender ho bisogno di di essere comunque produttivo con entrambi allora la prima cosa di cui ho bisogno appunto è un pig walk ok quindi vado a vedermi un po' che camminata ho bisogno ne ho trovata una prima la prima cosa da fare primo errore da evitare non prendere ovviamente quelle già fatte in animazione ma prendere cose reali un'altra cosa che è efficace è prendere camminate di di animali magari che sono stati presi come in questo caso per strada cioè in questo caso noi abbiamo un maiale che cammina però senza forzarlo cioè è molto naturale ok ovviamente del ciclo noi avremo bisogno solo di alcuni di alcuni fotogrammi a questo punto io mi porto la mia reference nella scena allora la prima cosa che io faccio è aggiungere un empty image e me lo metto qua c'è questo mouse scusate questa è un'altra spesa devo fare un buon mouse ecco e mettiamo magari appunto qua ok prendiamo il nostro download che ecco era dall'altra parte mettiamolo giriamo dalla parte che ci serve più o meno mettiamolo della misura che ci serve ok e qui abbiamo la nostra reference e che ci servirà per animare il nostro maiale allora la prima cosa che io faccio in pose mode metto il maiale più o meno dove è la reference ok e mi concentro a questo punto nella visuale 3D senza considerare assolutamente la camera su questa azione allora prima di tutto qua vado a vedere il maiale la reference di cosa ho bisogno allora intanto io vedo come allora prima di tutto come si legge questa reference ok i fotogrammi di cui ho bisogno sono vediamo se riesco anche a no vabbè uguale tanto è qua allora i fotogrammi di cui ho bisogno sono fondamentalmente allora i primi sono i contatti allora questo il maiale come altri animali cammina in passo alterno ovvero non in ambata ci sono degli animali che camminano in ambata degli animali che camminano alternando le zampe fra zampa davanti e zampa dietro ovvero quando il passo è aperto davanti dietro abbiamo un passo in position il passo in position è la posizione di quando per esempio il passo è nel punto intermedio fra un contatto e l'altro quindi in questo modo noi abbiamo un contatto davanti e un passo in position dietro e il passo in position se vedete è come se andasse a calciare la zampa dietro è come se andasse a calciare la zampa davanti quindi quando io ho un passo in position dietro in realtà ho la zampa che nel contatto rimane dietro nel passo in position mi viene avanti quindi appunto si chiama passo alterno e il modo migliore per fare un breakdown di una camminata è dividere in contatti e passo in position ok e dopo operare sui breakdown allora il contatto è praticamente si considera il contatto della zampa davanti io considero questo per comodità se vedete abbiamo anche nel contatto il busto il busto va giù ok mentre invece le anche vanno su in questo modo si può vedere anche un'altra cosa si può vedere che l'animale è praticamente diviso in due parti principali che sono la parte anteriore e la parte posteriore quando la parte posteriore è giù in squash questa posizione si chiama squash ovvero quando il contatto quando il peso dell'animale va a terra perché abbiamo il contatto ok va giù mentre nel passing position l'anca le 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 hips vanno su non sono le posizioni più basse attenzione le posizioni più basse sono appunto la posizione di squash che è questa quando l'animale carica che è nel breakdown ovvero in una posizione intermedia quando l'animale carica il peso per poter andare su e poi questa posizione di è chiamata swing cioè quando si porta la zampa da passing position passa avanti e questa è la posizione più alta perché è lì che il peso dell'animale arriva in alto per poter permettere di passare da un punto all'altro la zampa il maiale è un animale che è digitigrado ovvero cammina sulle dita ci sono vari animali ok che ovviamente a seconda di come camminano e quindi per esempio c'è il digitigrado c'è il palmigrado cioè che ovviamente anche plantigrado camminano sul palmo e sulla pianta come per esempio l'orso quindi in base anche all'anatomia dell'animale bisogna capire che tipo di passo abbiamo davanti perché perché ovviamente un digitigrado come anche il cane no andrà sulle dita mentre quindi quando se vedete il passo sarà vedete quasi in verticale mentre un palmigrado o un plantigrado ok che in questo caso plantigrado è con la zampa dietro palmigrado è con la zampa davanti vedete avrà questo ovvero appoggerà prima il il dorso il scusate il la fine del palmo o della pianta e poi andrà a appoggiare tutto il resto questo ci porta anche a un'altra problematica ovvero come la pressione delle dita viene avvertita a modo diverso nel senso su il digitigrado le dita andranno a aprirsi ok per la pressione mentre sul palmigrado andranno quasi a aggrappare il terreno per poi leggermente chiudersi sono tutte cose che ovviamente alla reference non si notano però e vabbè ovviamente con l'anatomia dell'animale studiando l'anatomia dell'animale si riescano a a sapere soprattutto sono importanti perché quando si va a leggere la reference ok il fatto di avere queste conoscenze porta anche a poter leggere la reference in modo più accurato uno dei problemi diciamo principali che io ho sempre visto negli animatori in ogni produzione è il fatto che la reference non viene interpretata non viene studiata ma viene quasi rotoscopata ovvero c'è quasi un andare frame by frame senza capire effettivamente quello che poi si fa infatti io avevo anche creato delle creature miste proprio per cercare di sforzare l'animatore a animare pensando all'anatomia dell'animale quindi fin qui è tutto chiaro sì sì assolutamente perfetto allora questa me la metto diciamo più grande ok in modo che così sì nel frattempo se qualcuno ha qualche domanda approfittatene magari in questo in questo momento sì mi è sfuggito all'inizio come hai fatto a scaricare il video da google da youtube sì allora guardate ve lo faccio vedere è molto allora io uso questo da quando ero in 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 cine site praticamente perché in cine site non si poteva scaricare da alcuni da alcuni siti e questo era l'unico che me lo faceva scaricare allora se voi andate su qualunque video che vi interessa e scrivete davanti a youtube 9x 9x vi porta a una pagina dove praticamente potete scaricare con extract links il vostro il vostro video vi apre una pagina che però non comporta assolutamente niente solo una pagina la chiudete e potete poi scaricare il vostro il vostro video questo è diciamo l'unico l'unico sito che permette di scaricare anche negli studi perché è sicuro non è poi ovviamente ve lo ve lo fai in mp4 quindi con l'mp4 ve lo riportate in su blender senza senza problemi è molto è molto comodo tra l'altro sto scrivendo sto riscrivendo un uno script per blender che spero di rilasciare a breve che avevo già scritto su maya dove praticamente che permette di avere una libreria di reference direttamente qua che voi prendete drop cioè prendete avete delle varie immagini le varie thumbnail ok delle reference voi prendete la reference cliccate e la droppate sulla viewport e ve la importa direttamente quindi sto riscrivendo un po' di tool che avevo scritto su maya per blender anche in modo che così possono magari soprattutto a chi vuole avvicinarsi anche al mondo fantastico mondo dell'animazione con le creature quella può servire l'animazione con le creature è molto è molto particolare nel senso che permette di sbloccare molte cose che la sola animazione non permette di fare perché è da pensare nello stesso momento all'anatomia all'animazione e alla credibilità della creatura perché questa creatura poi deve essere credibile ora qui non abbiamo tempo eccetera normalmente quando c'è un quando c'è una scena questo si mette tutto qua quando c'è una scena di VFX comunque realistica eccetera abbiamo un match move poi vabbè comunque abbiamo una camera che che è in realtà una reale camera che viene portata su nel programma con reali plate ovvero lo sfondo dietro quindi permette di avere la stessa camera blender c'è un match move che funziona molto bene tra l'altro però quello poi andremo a vederlo magari in un altro workshop è molto interessante comunque qui abbiamo una camera fissa va bene però comunque l'animazione deve essere credibile e deve essere la body mechanic anatomicamente corretta quindi la prima cosa da fare è stabilire dove io ho il contatto lo vedete in realtà a me il contatto mi parte dalla frame 5 quindi la prima cosa che io faccio ok start io lo faccio partire dalla frame 5 che però non parte alla frame 5 perché Gabriele come match move in termini di camera tracking no? sì beh sì sì come match move e camera tracking scusate offset 5 allora adesso lo vedete se io la offsetto dei 5 frame parte dal dal post corretto questo è l'altro è l'altro contatto e questo è l'altro contatto addirittura guarda si può prendere dove si vede ancora meglio partiamo dal frame 19 così prendiamo un ciro che si vede molto bene molto vicino aspetta aspetta c'è 9 più 5 era 24 ok quindi andiamo a vedere qui come eccolo qua ok abbiamo il nostro contatto altro contatto dietro e altro contatto all'altra parte quindi in realtà noi abbiamo 16 cioè la nostra camminata in realtà è un trotterello questo è di 16 frame ok quindi io qua ci scrivo 16 vedete io ho già la mia reference ho già quello che mi serve della reference adesso devo solo animare quindi qua io riesco addirittura questo è fantastico perché permette di avere un ciclo ok che ovviamente a noi non ci interessa però per vedere se volete vedere come si attacca questo ciclo eccetera facendo questo vedete è un loop è un loop che permette di capire cioè la vedete si attacca perfettamente ora a parte lo zoom di camera però funziona funziona già bene quindi a questo punto io mi animo questo porcone eccolo qua allora io mi concentro solo questo è importante io mi concentro solo sui tre fotogrammi chiave dei contatti perché tre che abbiamo uno un contatto il contatto dall'altra parte e poi essendo un loop anche sempre il primo ritorna dall'altra parte quindi in realtà il primo lo copierò al primo fotogramma e all'ultimo e poi qua che poi tra l'altro vedete proprio su nove in realtà questo guarda questo per essere visto e parte da uno per avere una camminata pari questa possiamo mettere a 17 così abbiamo ecco abbiamo l'attacco perfetto quindi se vedete effettivamente da uno il nove è praticamente cioè la metà del ciclo questo è incredibile perché a meno che non ci sia un animale zoppo a meno che non ci sia qualche cosa che non determina una camminata regolare però quando voi andate a prendere una camminata e andate a stabilire i contatti il contatto è sulla metà esatta del ciclo e questo fa vedere effettivamente come noi siamo sincronizzati in natura come quello che noi vediamo che poi sì è un'approssimazione in 24 fotogrammi al secondo però in realtà si ritrova in maniera esatta anche in natura quindi la prima cosa che io faccio che mi prendo il mio quindi in sintesi scusami Gabriele noi creiamo prima chiave di contatto poi il contatto speculare andiamo a creare poi il ricontatto in un certo senso esatto e dopo si lavora sugli altri fotogrammi che sono i passi in position poi tutto sarà ciclico e sembrerà una vera e propria camminata esatto esatto e cosa succede? noi che stiamo amminati in realtà ci servirà per arrivare alla mangiatoia ci sono dei tool che io uso ok che permetteranno poi di fare contatti questi tool semmai vi metto vi metto il link qua è molto utile sì ce lo siamo anche detti in chat poi mi passerai gentilmente tutti i link in maniera tale che li potrò mettere nel video e tutti quanti potranno andare avranno le fonti ecco ecco intanto lo metto lo metto qua questo praticamente se andate su questo su questo su questo video vedrete qua c'è un drive google e praticamente puoi anche mettere il link in chat volendo è già messo a parte guarda metta anche metta anche quello del drive così almeno siamo siamo a posto faccio un foglio a parte con tutti i link quindi perfetto grazie Ale questo è diciamo una raccolta di alcuni tool che io avevo preso va bene e che permettano di avere quelle cose che io userò oggi allora Animade AnimToolbox allora questa è una libreria che è molto molto carina funziona molto bene questi due sono fondamentali AnimToolbox soprattutto che tra l'altro tra l'altro mi 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 riscarico eccolo qua AnimToolbox permette di avere non solo gli animation layer però permette di avere anche un workspace cosa che c'ho anche su quest'altro comunque tool che anche questo è molto buono, sono tutti i tool che io ovviamente vi consiglio di usare e che permettano di facilitare tantissimo il discorso dell'animazione qua che è questo e qua abbiamo Animade poi vi farò vedere per il discorso del graph editor, oggi faremo blocking eccetera però già anche il discorso del graph editor vedrete un po' come l'affronto e qui abbiamo Animatoolbox, lo vedete questo questo è praticamente un workspace, poi vi spiegherò cosa è il workspace, il workspace è fantastico perché praticamente permette di di mettere vabbè ve lo spiego dopo quando ci arriviamo però è una cosa che io uso ogni giorno tra l'altro me lo sono scritto anche uno specifico io perché non c'era dico per Maya non c'era qualcosa su Maya mi soddisfacesse su Blender c'è appunto e perché il workspace è per me fondamentale nell'uso del mio workflow e tra l'altro vabbè praticamente è un è un null è un empty che viene creato e che poi in realtà riporta certi controlli a essere ririgati ora qua si vede perché certe volte è meglio fare piuttosto che parlare no? si capisce meglio allora la prima cosa che io faccio appunto è crearmi il mio pose allora intanto io vedo ho qua se analizziamo questo analizziamo il petto insieme questa è una cosa che potete anche vedere voi quando portate avanti la spalla il busto tende a accompagnare lo stesso quando noi camminiamo le anche tendono a accompagnare il passo avanti ok? e tendono a ovviamente seguire il passo indietro quindi la rotazione del busto e dell'anche avviene rispetto alla zampa o comunque alla gamba che viene usato anche al braccio perché ovviamente quando si cammina e si muove le braccia abbiamo una rotazione del busto quindi la prima cosa che io faccio è stabilire intanto la posizione delle gambe i piedi questo vi ricordate sempre piedi zampe busto e anche per i quadrupedi per i bipedi anche e piedi sono fondamentali sono la prima cosa che stabilisce l'equilibrio quando voi muovete le vostre i vostri controlli ricordatevi sempre di muovere come prima cosa o bacino il root e i piedi oppure in questo caso anche zampe posteriore busto zampe anteriori allora la prima cosa che io faccio è appunto muovere le mie i mie zampe quindi questa è la mia zampa allora se vedete questo io non uso lo stretch che non mi piace usare lo stretch quando devo animare cose reali preferisco trovare la giusta posizione allora intanto abbasso il cesto quanto mi mi basta in questo caso da fare il genere qua se vedete guardate questo è importante guardate questa zampa come è dritta lo vedrete la curva che fa questo è il polso è importante quando si crea il nostro pose ok ora questo polso qua è qua vediamo dove ce l'ha qui in questo pose eccolo qua vedete questo questa linea che si crea allora Milt Kahl sapete chi è Milt Kahl è uno dei grossi animatori della Disney dei dei Fabulos Nine i primi è quello che appunto fece non solo creò Mago Merlino ma fece anche la famosa battaglia tra Mago Merlino e Maga Mago è stato diciamo il uno dei maggiori animatori di Pinocchio e forse uno dei migliori animatori mai esistiti a livello mondiale Milt Kahl diceva sempre che per i vostri fotogrammi chiave dovete prendere tutto il tempo del mondo cioè curate i vostri fotogrammi chiave perché quei fotogrammi chiave una volta voi ce l'avete puliti e funzionali avete già la struttura della vostra animazione cioè l'animazione già funziona grazie a quei fotogrammi chiave e le zampe l'anatomia delle zampe è molto importante e ora sul maiale la zampa dietro non è come su altri su altri animali però c'è sempre questa regola di tenere lo vedete questi queste ossa parallele ora questo questo rig funziona bene quindi le ossa seguono già parallelamente però su molti rig questa cosa non c'è e si tende a rompere le zampe cercate sempre di mantenere l'anatomia delle vostre zampe credibili e soprattutto cercate di capire la fisica già delle vostre zampe intanto le spalle sono molto importanti quando noi se vedete qua ora questo è un po' bler blerizzato guardate la zampe lo vedete la spalla questa gobbettina ok e sia come si abbassa all'altra parte come sparisce poi la gobba questo significa da qua io ho uno shift del peso ok il fatto che le spalle e le anche si muovano contrapposte e si alzino fa sì che determinino da che parte il peso viene shiftato nel corpo nel senso se io ho tutto il peso su una spalla ovviamente avrò la spalla in alto perché tutto il peso mi rimane in alto al momento se Gabriele correggi il microfono perché ti è spostato mi sentite adesso sì come dicevi tu in pratica le zampe di dietro la camminata formano lo sculettamento invece le zampe di davanti formano quel movimento proprio della schiena e quindi danno l'impressione che sia lo scaricamento del peso in una zampa o in un'altra esatto e soprattutto soprattutto è da pensare no non è solo è lì che fa la differenza quando si analizza una reference non è solo vedere e anche capire cosa sta avvenendo a livello di peso il peso nell'animazione è tutto a partire dalla sfera dal famoso esercizio della sfera cose più complesse quello che noi simuliamo è il peso che sia 2D che sia 3D che sia stop motion quello che noi facciamo è simulare il peso degli oggetti cioè la stessa camminata in realtà è un peso che cade e viene ripreso dai piedi cioè noi siamo sempre un peso in caduta che appunto riesce a riprendersi a darsi un impulso verso l'alto il peso è fondamentale quindi quando andiamo a vedere una reference e andiamo a analizzare la reference dobbiamo anche capire il peso cosa fa a livello di a livello del corpo cioè come il corpo perché il corpo shifta il peso da un piede all'altro ovviamente qui cosa succede questo questo peso no c'è tutto su questa zampa e poi questa zampa viene portata avanti e il peso si trasferisce sull'altra no quindi una spalla sarà scarica e l'altra spalla sarà carica è molto cioè se vedete anche voi se mettete su un tavolo e provate a passare da una da una spalla all'altra il peso vedrete che avete una reazione ok azione reazione questo è molto importante quando si parla di body mechanic animazione in generale l'azione a ogni azione corrisponde una reazione ok che appunto permette in questo caso di avere l'illusione del del peso che si sposta quindi quando noi andiamo a fare le spalle cerchiamo di capire cosa abbiamo a livello questo aspettate questo qui me lo sposto un po' più lontano perché l'ho messo veramente vicino è talmente grande questo questo maialone che possiamo metterlo anche più lontano e appunto in questo caso ok stessa cosa pensiamo alla struttura molto sensibile stava vediamo se riesce a correggere si 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 ripremuto maiuscolo ti da il micromovimento ah mi dai il micromovimento eh no mi sa che però sul mio maledetto ah giustamente tu hai il set diverso certo si no non niente non me lo vuole dare vabbè ho il set diverso e quindi bisogna vedere un momento a cosa corrisponde perché non l'ho ma usato effettivamente allora che map andiamo micro come si chiamerà non saprei un attimo che controllo 3d view un attimo un attimo Tanto possiamo già andare qui sulle spalle il limite. Che funziona comunque anche, ecco, mi siamo passate alle spalle che a questo punto è un po' meglio. Mi senti? Sì, ti sento. Devi premere lo shift. Lo shift? Sì, quello rallenta. Ok. Ma te l'ho premuto? Ah no, perfetto. Bellissimo, perfetto. Grazie. No, scusami, io cosa avevo detto prima? No, maiuscola, hai ragione te. Sono io che mi sono incartato. Sai com'è? Se lo dice il capo si capisce meno. No, è che purtroppo certe volte mi incarto anch'io. Riesco a essere un po' dislessio nella vita reale. Senza senso. Ah, è per questo che noi sconsigliamo vivamente a tutti di cambiare il set della tastiera, proprio per evitare questo tipo di pose. Però giustamente tu provieni da Maya, quindi... Eh, guarda, diventerebbe... Cioè, più che altro lo faccio per vivere meglio durante il giorno. Più che altro perché mi rendo conto che usando talmente tante cose non riesco a poi a... No, è chiaro. Tu ovviamente sei chiaramente ormai pienamente inserito nel mondo del 3D, del lavoro, eccetera, quindi andare a studiare oppure sarebbe un macello, lo capiamo. Ma poi guarda, tra l'altro, in questo momento, nello studio dove il lavoro siamo passati da un gestionale di pipeline a un altro, va bene? Già quello che c'ha altri short account, eccetera, tutte le volte mi devo riprogrammare, cioè... È che non ho più vent'anni, ragazzi. Purtroppo è così. Sono sessanta. Eh, anche te sei giovane, allora. Siamo tutti un po' giovani. Siamo diversamente giovani. Usando Mac mi devo trovare sempre a usare i tasti diversi, allora di conseguenza ho capito che tu maiuscolo non avevi capito che era quello. E tra l'ho diamato col nome... Eh, infatti, Shift, mi ha fatto benissimo, perché io sono abituato alle tastiere. Perché, purtroppo, ho vissuto per molto tempo in Canada e con le tastiere americane lo Shift, appunto, la maiuscola per me è il tab. Cioè, tanto per dirti che livello sono ormai incartato. Allora, se vedete cosa ho fatto qua. Ho spinto l'anca su questa zampa. Qui ovviamente non si vedete. Dall'altro questo non è propriamente il passing position. Il passing position è questo, ok? Per comodità, noi si fa già un passing position qua. Qui c'è uno swing, in realtà, per comodità, anche perché altrimenti si mette già questa zampa. In realtà, se si vuole fare le cose, diciamo, questa sarebbe, diciamo, la posa, ok? Dove qua lui arriva, sulle, vedete, sulle dita. Quando vi dicevo il digitigrado, eccolo qua, arriva sulle dita. Quindi qua, noi si può prendere e alzare leggermente questa posa. Che arriva direttamente sulla punta della zampa. E qua, ora, questa è una scrofa, che è diversa dalla struttura, però che è molto curva, ok? Cosa che qua noi in realtà non abbiamo. Però possiamo curvare leggermente questa schiena e soprattutto usare già la testa come spina, ok? Quindi, vedete, la struttura della spina a questo punto mi diventa. Questo è il collo. Mi diventa in questo modo. E questa anche è qualcosa che ci può aiutare in questo. Andiamo a trovare un momento la forma, ok? Quindi andiamo a fare la nostra posa. Tra l'altro, queste linee d'azione, ok, che sono fondamentali. Quindi io seleziono tutto e gli do una chiave a tutti i controlli, vedete? A tutti i controlli. Perché se ho bisogno di rifare un retiming di questi pose, lo posso fare. Retiming, ovvero spostare le chiavi in modo che siano più o meno veloci o più o meno lenti. Allora, una cosa fondamentale per me nell'animazione, molte volte trascurata, che nell'animazione 2D eravamo costretti a fare, ok? Perché ovviamente, come vi ho detto, io lavoravo dall'animazione 2D. Ho lavorato cinque anni in animazione 2D, dal 95 al 2000. Poi dal 2000 al 2010 ho fatto storyboard. Poi sono ripassato all'animazione col 3D. Nell'animazione 2D, quello che è fondamentale è il disegno. E il disegno dal vero, il gesture drawing, ma non il disegno dal vero con le pose lunghe, eccetera. Il gesture drawing è quel disegno gestuale, istintivo, di una persona, comunque sia, che abbiamo davanti dal vero, che permette di identificare dove ci sono delle tensioni, dove ci sono delle forze in un corpo e dove il peso in questo corpo viene stabilito e come viene stabilito. In questo caso, per esempio, il discorso di avere una spina, una tensione spinale in questo corpo, in realtà scarica il corpo, scarica questa tensione direttamente a terra. Se fosse stato teso in questo senso, vedete, sarebbe stato innaturale. Perché? Perché la tensione è scaricata, la schiena carica la tensione, non è scaricata. In questo caso, tutta la tensione dell'azione è scaricata a terra, quindi significa che la schiena è completamente scarica dalla tensione. Se fosse stata all'opposto, la schiena sarebbe stata caricata tantissimo, tanto che se vedete, immaginatevi, se questa schiena fa così, qui non abbiamo nessun peso sulle zampe, perché tutta la tensione arriva dalla schiena. Questo è importante, il discorso delle varie tensioni è importante perché riesce, intanto qui si fa un bel salvataggio, perché io mi fido di Blender, però è sempre bene fare un salvataggio, lo chiamo blocking. Il discorso è la tensione, soprattutto è la tensione spinale, perché è la spina, no? La spina è il nostro sostentamento, cioè tutto parte dalla spina. Quando noi abbiamo le tensioni spinali, stabiliamo il punto in cui il peso viene più o meno scaricato, come una spina si allenta o si carica, stabilisce in che modo viene caricato il nostro peso. Per cui, infatti, se fate caso, quando una persona ha un'ernia, cammina male, perché l'ernia provoca altre tensioni all'interno della spina e fa sì che la persona cammini male. Tant'è che quando c'è un'ernia in corso, il dolore arriva fino al polpaccio, perché ovviamente tutta la gamba è in tensione, perché quella spina è in tensione. Il corpo umano è fantastico, ovviamente siamo delle strutture architettoniche se moventi. Lo stesso, appunto, quando si analizza una reference, cerchiamo di stabilire il punto in cui questa tensione arriva. Perché arriva anche? Perché ovviamente bisogna capire il perché di questa tensione, cioè in che modo arriva questa tensione. Allora, qua adesso, noi cosa andiamo a fare? Andiamo a mettere un'altra chiave e in questo modo stabiliamo l'inizio e la fine del nostro loop. E possiamo già mettere un'interpolazione. Ok? Allora, qui ci sono varie interpolazioni. Quella per me migliore per cominciare è la Bézier. Avete già un easy in, un easy out. A questo punto io vado, intanto facciamo così, prendiamo solo il pezzo che ci interessa, perché altrimenti... Ok? Così possiamo lavorare un po' meglio. Tra l'altro, questa è una delle cose che mi piace tantissimo di Blender rispetto a Maya, il fatto che io posso muovermi sulla timeline in modo libero. Nel senso, posso prendere quello che mi serve, posso zoomarmela. è molto, molto... Cioè, qualcuno che entra in casa adesso... È molto, molto... utile. Quindi la prima cosa che faccio è dare una chiave, va bene? Allora, qua io posso prendere e posso direttamente prendere questa... Anzi, facciamo una cosa. Proviamo a prendere tutta la posa, fare un copy e poi fare past flipped e vedere cosa succede. È evidente, ma solo ho fatto però una parte. Ci dovrebbe essere anche il mirror, infatti, eccolo qua. Allora, il mirror... Non va nessuno a aprire, vabbè ragazzi, scusatevi. Mi sa che devo andare a aprire io. Un momento, eh. Arrivo subito. Sì, non c'è problema. Allora, eccomi qua, scusatemi. Quindi, io prendo e seleziono, faccio copy, ok, faccio past, e poi faccio mirror, guardiamo se funziona. Non fa, va bene, si farà, ma... Niente, è pazzito. Allora, quindi, quello che prendo adesso è prendere le mie zampe e copiarle direttamente all'altra parte. Ovviamente, se io prendo, come dicevo prima, che se io prendo questi comandi, ok? E poi le metto di qua. Niente, ma ho preso anche questo, scusate. E le metto di qua. Eh, no, non funziona. Va bene, si farà uno a uno. Eh, ci sono, ci sono dei, ehm... E quale comando usi per far uscire la finestra per il copy? Ma in realtà, guarda, eh, clicco con il destro. Ah, direttamente il frame, ok, perfetto. Sì, e... E appunto, per esempio, past flipped... Ah, lo vedi? Ah, perfetto. Posso fare anche così. Perché di solito io uso dei tool, però voglio farvi anche vedere senza tool, effettivamente. Quindi, se io faccio copy e faccio past flipped, in realtà... Eh, no, no, non me lo vuole fare, vabbè. Niente, si fa... Si fa un po' alla volta. Quindi, quello che io faccio in realtà è ricreare... Per esempio, da qua. Io vado qua. Ok. Copy. E past. Non me lo vuole fare, ma perché? Forse perché non sono in mirror i due... No, provo a selezionare la base, la base dove c'è il piede, la... Eh, l'ho selezionato, però forse aspetta, non l'avevo... Eccolo qua, perfetto. Niente, non l'avevo presa, scusate. Quindi, se io vado qua, perfetto. Quindi, allora, prendo questa base, ok? Prendo questa. Me la copio. Poi vado qua. E me lo incollo. Ok? A questo punto, se vedete, io ho esattamente... Ok? Il... Ecco, ho preso il... Il passo all'altra parte, ok? Quindi, comincio a copiarmi via via le mie... La cosa buffe è che prima mi ha preso uno, ma non mi ha preso l'altro. Come mirror. E poi, ovviamente, il discorso delle spalle, ok? Come si diceva, una zampa scarica, quindi una spalla scarica, e una zampa carica. Quindi, significa... Quindi, significa... E' una zampa carica, ok? Ok, quindi... Quindi, anche qua, appunto, andiamo a vedere... Vedete, già abbiamo... Non ci preoccupiamo adesso delle... Di queste posizioni intermedie, perché non è quello che ci interessa, ok? Quello si fa... Quello si fa... Però, in questo momento, noi abbiamo i nostri contatti. E qui, ovviamente, abbiamo la rotazione dall'altra parte. Forse il microfono si striscia sulla barba quando parli, se lo allontani un po'. Eh, ok, perfetto. Adesso? Va bene, va meglio. Sì, è fluido adesso, grazie. Questo... Infatti, guarda, devo anche prendere... Devo trovare delle cuffie. Un'altra spesa. No, in realtà sentono bene, no? Era solamente che, parlando, strisciava sulla barba. Ecco, una cosa del genere, magari qua, guardiamo di prendere anche questo controllo. Tra l'altro, questo anche... Ah, eh... Miuscola. Eccolo ora. E questo si mette un po' più qua. Allora, tra l'altro, anche il discorso del... Anche il discorso del rig, ok? Il fatto di sapersi adattare a un altro rig, anche quello è fondamentale, perché io non ho mai usato questo rig e lo sto usando via via. Però, più o meno, alcuni controlli si, diciamo, sono sempre quelli. Allora, adesso è da prendere questa zampa e fargli un mirror. Guardiamo se ci fosse... Per me qua, sul... Eccolo qua, un mirror. Quindi, questo è uno dei tool che uso. Quindi, mi prendo questa zampa, ok? Add set. Ma in realtà... Mi sa che devo fare tutto un po' insieme. Se c'è tutto un'altra volta. In realtà non dovrei aver mosso più di tanto. E poi facciamo... Mirror. Però, non fa... Ah, lo devo... Lo devo attivare, forse. In realtà non... Si fa alla vecchia maniera, allora. Prendo questo. Intanto, prendo... La prima cosa che prendo, ovviamente, è questo, no? Faccio un copy e lo porto di qua. Ok? Adesso vado qua. Faccio un copy. Lo porto qua. Ok? In realtà qua non dovrei aver mosso altre cose. Quindi era molto... Era molto semplice una cosa. Andiamo a vedere. Ecco, se vedi... Qui, vabbè... Si ancella questo, intanto non ci interessa. Ehm... Allora, se vedete... Stranissima, perché mi fa così. Si fa così. E si ricopia questo. Però... Lui ha deciso che... No, va bene adesso. Allora, se vedete, ovviamente, cosa succede? Che... Qui manca... Però già abbiamo... I nostri contatti. Ok? Questi sono fondamentali. Tra l'altro, qua si comincia... Anche a... Lavorare su certe cose. Come per esempio, qua l'anche. Ok? Quindi, per esempio, qua avevamo... Il peso che si postava da una parte. Qua abbiamo già ruotato. Qua... Per esempio... Questo è fondamentale. Ok, questa... Questa... Questa zampa dritta. Ok? Adesso andiamo sul nostro passing position. Allora, il nostro passing position, se vedete... Allora, avviene... Questo è sempre molto interessante. Allora, c'è... Allora, prima di tutto, io vado a vedere adesso il contatto dietro, va bene? Che non corrisponde al mio passing position davanti, lo vedete? Ma è sfalzato. Quindi, la prima cosa che io faccio... È stabilire adesso... Prima il passing position davanti... E poi... Dopo... Ovviamente noi partiamo dal passing position dietro... Stabilire il contatto dietro. Che se vedete... Uno... È sul frame... Ok? Quattro, cinque... Che così almeno... Vedi? Ok? Qui è da dove parte questo, poi... Cinque. Quell'altro è sul frame sette... E se andiamo al frame tre... In realtà noi abbiamo lo swing... Di questo. Quindi cosa significa? Che noi, in realtà... Abbiamo già identificato... Swing... Contatto... E swing davanti. Questo, se vedete... È dove parte lo swing... Per poi andare davanti. Uno swing che... Vedete? A differenza da quello dietro... Quello dietro è uno swing... Si chiama... Aperto... Cioè... È teso verso... Verso... Verso l'alto... E va a spingere. Mentre invece quell'altro è... È accompagnato... Prendete una cosa... E poi... Che poi arriva... E va... Di punta... Direttamente... E poi si va... A copiare dall'altra parte. Ovviamente... La cosa che facciamo per primo... È andare... No? Nel... Nell'intermedio... Ovvero... Fra 1 e 9... La metà è 5. No? Perché? Da 1 a 9 sono 8 frame... Da 1 a 5 sono 4. Ritorna? Quindi... Noi andiamo... Già a vedere cosa abbiamo qua. E effettivamente abbiamo... Il contatto dietro. Ritorna un po' come cosa? Sì, sì... Allora... Noi abbiamo lavorato in linea di massima... Adesso giustamente dobbiamo fare... Scendere diciamo... Fra virgolette sul fino... Ecco... Quindi raffinare un po' tutto. Esatto. Ovviamente cosa faccio io? Prendo... E do una chiave su tutto. Ok? Quindi... La prima cosa che io faccio... È andare a stabilirmi il contatto... Delle zampe. Ovviamente... Il contatto delle zampe significa... Guardate il culo del maiale... Come scende. Vedete? Se noi prendiamo... Questo punto qua... E questo... Guardate come è basso... Guardate la coda. Ok? Da qua... Scende giù. Perché ovviamente è un contatto, no? E come abbiamo visto prima... Il contatto è qualcosa che... Scende giù. Allora... Quello che io faccio... Quando devo fare una cosa del genere... La prima cosa è... Stabilisco... Quanto deve essere basso... Più o meno il mio culo. Poi vado qua... E... Prendo... Con F... Mi avvicino... Con F... Zoom. La prima cosa che faccio è... Clear transform all. Io lo voglio riportare a zero. E... Mi metto... Più o meno... Più o meno... Qua. Ok? Quindi qua... Qua... Guardate come spinge dietro. Ok? E poi... Stessa cosa qua... Stessa cosa qua... Stessa cosa qua... Mi metto... E... Vado su... Clear transform... E... E mi metto... Qua. Ok? Ok? E... Vado a vedere... Più o meno dove arriva. Allora... Più o meno arriva... Lo vedete... A un terzo del... Del... Del corpo. Quindi... Più o meno arriva qua. E qua... Sempre... Mi... Costruisco la tensione... Della zampa. Controllo che a livello... A 360 gradi funzioni. Che io voglio che questo funzioni. A 360 gradi. Quando fate questi pose... Considerate... Che devono essere... È come... Cioè... Voi dovreste prendere questi pose... E stamparli. Ok? Per essere sicuri... Che funzionino. Cioè... Pensate... Questo pose deve essere... Come una scultura... Che voi fate. Per questo io sono anche molto legato... Alla modellazione. Perché quello mi... E... In realtà mi crea un senso... Della forma... Che posso portare anche in attenzione. Io non sono modellatore... Però... Mi piace molto modellare. Ed è molto utile anche... Anche a livello di animazione... Perché... È... Un po' no... Il discorso di costruire dei pose solidi... Che... La peel è uno dei... Dei principi dell'animazione. Quindi... La peel è appunto... Quantum pose è... Nella pixel la chiamavano la sincerità del pose. Quantum pose è sincero. Ok? Quindi andiamo a vedere... Qua... 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 Lo vedete già... E si comincia... Anche a capire... Per esempio... Questo... Up... È un po' troppo alto. Ok? Magari... Leggermente di meno... È un po' meglio. Perché ovviamente... Via via che si va avanti nel blocking... Via via che si va a cambiare certe cose. E... Qua... È come uno scatto nei punti di tensione. Sì... Praticamente è... Sì... Esattamente. Vedete... Diciamo che a livello di anatomia... Animali... Umani... Più o meno... Abbiamo tutti gli stessi... Eh... Principi. C'è una tensione che si crea... C'è delle forze che si creano. Cioè... Noi camminiamo in realtà... Perché... Creiamo delle forze contrapposte... Durante... Infatti... Quando si... Si... Comincia a camminare... Se voi vedete un bambino... È totalmente scordinato... Perché non sa ancora come creare... Certe forze contrapposte... Si muove tutto insieme. Quindi... Al momento... Noi si creano queste forze... Contrapposte... Queste tensioni... Riusciamo a... Eh... Creare... Un insieme di movimenti... Che... Ovviamente... Permettano al corpo... Di restare in equilibrio... Più o meno... Fra cui anche il discorso dell'up and down... Cioè... Dove... Qui per esempio... Ora ovviamente... Abbiamo... Questa... Questo pose... Dove... Il chest... Ok... Andiamo intanto a vedere... Qua anche il discorso del... Del... Del peso... Qua... Qua... E... Adesso si passa alla posa davanti... Allora... La posa davanti... Attenzione... Perché questo... In realtà... Se non si fa un clear transform... All... Ok... E... Io... Ho... Vedete... Ho già... Più o meno... Però... Vedete... Questa... Zampa... Ho messo sempre dritta... Ho messo sempre in tensione... Ok... Quindi... Io mi creo... Comunque è molto sensibile... Questo mouse anche... Maledetti mouse... Di Amazon... Ho lasciato il mio studio... Che è quello... Verticale... Della Logitech... E ovviamente... Sono qua con il mouse... Da gamer... Però... Allora... Quindi... Prima di mente... Io quello che faccio adesso è... Già alzare il mio chest... Ok... E poi... Lo vedete... Questo... Ok... In realtà... Il passing position... Sarebbe più avanti... Al 7... Questo diciamo... Un... Questo... Questo movimento si chiama... Peel... Il peel... È... Esattamente il momento in cui... C'è... Questo... Distacco... Della zampa... Della zampa dal suolo... Appunto... Il peel... Ok... Quindi... Qui ovviamente abbiamo il nostro passing position... È già lì... E poi il peel... Lo abbiamo... Qua... Qua... Andiamo... Anche a creare... Questo... Questo... Il movimento della zampa... Lo andiamo a vedere anche... Ovviamente la spalla... Come si diceva prima... È scarica da questo punto di vista... Cioè... Questa spalla qua... Mentre... Dall'altra parte è carica... E mentre... Il peso... È tutto da questa parte... Ok... Sull'altra spalla... Noi abbiamo... Tutto scaricato... Lo vedete già come funziona... Ovviamente qua poi... È da prendere le pose... Allora... La prima cosa che io faccio... È... Adesso che io ho una specie di rough... Ok... La prima cosa che io faccio... È... Concentrarmi solo su una parte... Allora... Ehm... Tra l'altro questo sistema... Lo uso su Blender la prima volta... Ovviamente... Ma... In realtà... È un sistema... Abbastanza comune... Che viene usato... Quindi è solo da... Da copiare... Incollare anche lì... Le varie... Le varie parti... Allora... Ehm... Praticamente... Se voi vi concentrate... Solo su... Allora... Ovviamente non si fa... Adesso un rough... No? Per avere un'idea... Un'idea... Un'idea d'insieme... Un'idea d'insieme... Però poi... Certe cose... Ok... Si possano fare... Solo su una parte... Copiare dall'altra parte... E shiftare... Di... Praticamente... Metà ciclo indietro... O avanti... Dandogli un infinity... Ora vi spiego un po'... Ok... Intanto... Quello che io faccio è... Creare già... Il primo rough... Ok... Dopo... Quando si comincia a ripulire un po'... Si può proprio... Focalizzarsi in una parte... E portarla... Dalla parte opposta... Facendo un mirror... Un... Un infinity... Allora... Intanto... Qua abbiamo questa parte qua... Si è detto... Ok... E adesso... Andiamo... A prendere... La nostra posa... Ok... Che... In questo caso... 5... 14... Anche lì... Per un discorso... Scusate... 9... 13... Perché ovviamente... Fra... Fra 9... E 17... La metà è 13... No? Quindi... Io prendo tutto questo... Prendo... Un copy... Faccio... Un past... Ok... E comincio a lavorare... Stessa cosa di prima... Quindi mi prendo... Il... Ok... Poi vado qua... Prendo... Questa... E me la faccio... E me la metto di qua... Ok... E me la metto... Di... Qua... Niente... Non gli è piaciuto... Questa... E vabbè... Vediamo se... Potete fare anche contro il C contro il V... Però ovviamente... C'ho... Sempre il discorso del set... Che... Sommai non è contemplato... E quindi... Vabbè... Comunque... Poi... Una volta... Copiato la posizione dell'exampo... Ovviamente vado... A... Ticcare... No... Con... Con... Con gli altri controlli... Quindi... Vado qua... Copi... Basta... Ok... Vado qua... Copi... Basta... Questo un po' mi sfasceva anche... A vecchi tempi... Anche perché alla fine... Qui ovviamente lo vedete... Il... Peso deve essere dall'altra parte... Anche lì... C'è chi... Fa... Esattamente... Lo stesso ciclo... E lo stesso peso... Quello... Non vi crea... Allora... In natura... La simmetria non esiste... A livello... Estetico... Va bene? Lo shift... Sarà da una parte... Non sarà mai perfettamente uguale a quell'altro... Avrete delle piccole differenze... Anche lì... Se voi vi fate il vostro... La vostra struttura base... E poi cominciate... A... Andare... Facendo appunto... Quindi tu dici... In ogni caso... Bisogna ritornarci... Anche se noi facciamo copypasta del totale... Comunque bisogna tornare per fare... Quei micro cambiamenti... Per... Rompere... La... La... La perfezione... Ecco... Sì... Sì... Perché ovviamente... O... Questo... Eh... Questo mouse... Eh... Eh... Sì... Perché ovviamente... No... Non... Non essendo in natura... Eh... Non... Non essendoci in natura... La simmetria... Facendo in questo modo... Siamo liberi... Sicuramente... Non ci si porta... Un errore... Che è... Il discorso della... Appunto della simmetria... Del mirror pose... Dietro... Giustamente... No... Le cose principali... Che sono la posizione... Nello spazio della zampa... Che è quello che ci interessa... Perché ovviamente... Il ciclo deve avere comunque... Un... Un senso... Fisico... Ce l'abbiamo... Però... In questo modo... Vedete... Creiamo... Piccole differenze... Che però sono fondamentali... Perché sono quelle che creano... Eh... La realtà... Appunto... Come vi dicevo... Non esiste... Il... Eh... La simmetria in natura... Quindi... Qua si fa... Questo qui è più... Più alto... Quindi cosa significa? Che noi... Facendo così... Ovviamente... Riusciamo a... A tenere... Questo qui... Non proprio non gli piace... Eccolo qua... Eccolo qua... Qui si dà... Un past... Scusate... Una chiave su tutto... Una chiave su tutto... Una chiave su tutto... Una chiave su tutto... E poi qua si fa il nostro past... Ok... Quindi adesso noi abbiamo... Vedete? Allora... Attenzione... Perché adesso ne abbiamo... Diciamo... Un blocking... Che sta cominciando a... A funzionare... Nel senso... Questo... Vedete... Ha già una fisicità... Quello che io voglio fare adesso... Allora... È creare i breakdown... E poi... E poi faccio una cosa... Particolare... Faccio un bake... Del ciclo... In due... In questo modo... O anche in quattro... Dipende... Ora... Questo ciclo è molto veloce... Quindi... Faccio... Un bake in due... Per avere... Un po' più di pose... Perché alla fine sono... 20 fotogrammi... Quindi... Ho... In questo modo... In questo modo... Ho dieci pose... E lo metto in step... Ora vi spiego anche... Cos'è... O... Sapete cos'è lo step? A dire il vero... Non siamo molto... Ferrati in animazione... Allora... Lo step... È... Sono le curve... In step... Ovvero... Non c'è interpolazione... È quello che... Nella... Nel vecchio concetto... Di animazione... Quando si lavorava in animazione 2D... Erano i... I... Disegni chiave... Allora... Cosa faccio? Io me lo riporto... Intanto qui le facciamo uno swing... Lo vedete... In questo momento... Sto... Operando... Sull'altro pose... Quindi swing... E qui lo vedete... Ho qui direttamente... La posizione ovviamente del piede... Perché... Slitta indietro... Quindi io in realtà... Mi occupo... Adesso nei breakdown... Ho solo... Da aggiustare piccole cose... Allora... Ehm... Facendo un baking 2... Io ritorno al concetto di pose... Perché... Lavorando in questo modo... Ok... Io faccio sì le pose... Ma sto lavorando anche su... Un discorso di... Ehm... Movimento... Ok... Facendolo direttamente... Così... E vedendolo in movimento... Io... Sono anche su un concetto appunto di movimento... Ovvero... Non... Sto facendo delle pose... Sì... Ma sto facendo anche... Ehm... Sto vedendo la fluidità dell'animazione... Rimettendolo in step... Ok... Ovvero... Rimettendolo in pose... Io mi focalizzo sulle pose... E vedo se una posa funziona... Più o meno bene... Questo è fondamentale... Perché... Ecco... Qui abbiamo il nostro peso... Perché permette di capire... Effettivamente... Se una posa... Funziona... Ok... Ma intanto vedete una cosa... Qui c'è lo swing... E qui c'è... Ancora il contatto... Qui c'è il punto più basso del chest... Ok... Quindi qua... Quando arriva qua... Il chest... Vedete... Carica il peso... Il peso... Per poi... Sforzarsi... E... Tirarlo su... Magari un po' meno... No... Vediamo... Quindi dicevo... Ehm... Vi permette... Di capire... Se la vostra posa... Funziona... O meno... E vi permette di... Eh... Correggere... La posa... Piuttosto che... Il movimento... La fluidità... Perché... La fluidità... Stiamo vedendo adesso... Che funziona... Dall'altro... Qui... Me lo metto un momento... Me lo metto già... A 21... Così... Possiamo dare anche un play... Lo vedete... Anzi... Facciamo la 20... Così non abbiamo... Abbiamo il loop... Senza pausa... Però... Si mette sempre in pausa... Perché ovviamente... C'è bisogno del suo tempo... Per elaborare... Poi semmai facciamo anche un play blast... Comunque appunto... Se vedete... Noi abbiamo... Ma a parte il fatto che... Ah... Ma perché mi sono un tortato io... Perché siamo a 17... Perché 21... Boh... E... Quindi appunto... Ok... Mettiamola a 16... Non capisco perché... L'avevo messa a 21... E... Quindi se vedete... Funziona già abbastanza bene... Ok... Adesso dovrebbe oscillare a sinistra e a destra... O no? Sì... Adesso c'è un oscillamento a sinistra e a destra... Però ovviamente... Vedete... Tut... 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 Ovviamente siamo ancora nella fase di rough... Ci manca ancora... E... Però vediamo che più o meno il timing è quello della reference anche... Ok? Quello che è importante è trovare anche il... Il pose... Il posing della... Della... Dell'animazione... Il posing è importantissimo perché... Voi considerate che ogni volta che fate un'animazione... Che animate... Ogni pose che fate... Deve essere piacevole... Ora... Non voglio... Però... Se avete visto il Re Leone... Di NPC... Non solo di NPC... Ci hanno lavorato diversi studi... Comunque... Il Re Leone per me peccava di una cosa... Fondamentale... Ovvero il fatto che molte volte i posing... Non erano efficaci... Cioè c'era un concetto di animazione... Legato al concetto di movimento... Ma il posing... Se voi fermavate in un punto il film... Potevate avere dei posing che non erano il massimo... Su questo io sono molto... E' una cosa che curo molto... Il discorso della posa... Perché... Perché... Voi dovete essere in grado di vedere la vostra animazione... Che funzioni non solo dal punto di vista anatomico... Meccanico... Ma che sia anche bella da vedere... In ogni fotogramma... Più o meno in ogni fotogramma... Perché ovviamente ci sono dei fotogrammi di passaggio... Dove interviene il motion blur... Eccetera... Però... Più o meno quello che voi avete... Deve funzionare... Esteticamente... Per questo io torno al concetto di posing... Ok... Allora qua adesso noi abbiamo... Quindi il punto più alto... Il punto più basso... Scusate... Del chest... Contrapposto al punto più alto... Che è lo swing... Ok... Quindi io vado qua... Vedete... Arriva qua... E poi boom... Cade... Qui... E qua... Abbiamo... Stessa cosa... Il peel... Vedete il peel com'è diverso... Ecco... Prendiamo un momento... Un attimo per vedere il peel... Da questo... Questo peel qua... Dove lui si piega... A questo peel qua... Dove... Dove... La zampa... È meno piegata... Ok... Lo vedete come si muovono... Pur essendo lo stesso movimento... A livello meccanico... Come è diverso... Il peel e lo swing... Sono molto interessanti... Perché sono dei movimenti... Che... Permettano di... Capire... Allora qui... Tra l'altro... Ora si... Si va a coprare su questo... Che permettono di capire... La caratterizzazione... Di una camminata... Ora non sto a farvelo vedere... Però se... Se potete... Riguardatevi... E... Un test... Che fecero su Big Hero 6... Che... Che era... Praticamente... Questo test... Fatto dal supervisore animazione... Era un test... Di tutti i vari personaggi... Che camminavano... Facevano la stessa azione... Ovvero... Arrivavano... Camminavano... Entrando in un caffè... Prendevano una sede... E si mettevano a sedere... Il modo in cui facevano... Questi determinati movimenti... Serviva a caratterizzare il personaggio... La camminata... In particolare... Era caratterizzata... Dal modo in cui... Lo swing e il pill... Operavano su... Sul personaggio... Non solo la postura... Ovviamente... Ma il modo in cui... Loro... Staccavano... E facevano atterrare... Il piede... C'è... C'è un supervisore... Si chiama Ted T... Che adesso è... Head of Animation... In Double Negative... Che... Che lui è... Un... Lui è fissato... Con le camminate... Io mi ricordo... Che... Quando andai per... IAnimate... Io feci IAnimate... Molto tempo fa... E quando andai... In California... Appunto... Per il discorso dei... IAnimate... Vabbè... Mi incontrai... C'era anche lui... E lui praticamente... Passava... Cioè... Noi eravamo per strada... E lui... Di volte passava qualcuno... Analizzava... Lo swing... Di questa persona... Cioè... Lui diceva... Guarda... Questo c'è uno swing così... Perché magari... C'ha... Un... Un problema strutturale... In quel punto... Era... Era fissato... Con le camminate... Tanto era diventata... Mi diceva proprio... Un'ossessione... Il fatto che lui... Ehm... Un po' come fa il fisiatra... Che ti guarda e vede... Esatto... Che cosa hai... Esatto... Come cammini... Ma... Ma tanto che mi diceva... Che... E praticamente aveva messo un imbarazzo molte volte anche la sua compagna... Cioè... Non... Perché lui... Sì... Sì... Ma... Vabbè... Non... Sì... Poi certe cose si fanno anche inconsapevolmente... Quando sei... Sì... 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 C'è... Ma guarda... Eh... Cioè... Il discorso dell'animazione... Eh... Passa da essere bravi osservatori... Va bene... Quello... Quello ovviamente... Ovviamente... Quando sei... Quando ti metti a osservare... Corri il rischio di passare come uno stalker... Cioè... È un po'... Però... Molte volte mi sono messo a osservare la gente nel caffè... E... Per vedere appunto... Che... Che cosa facevano... No... Certe cose... Che magari... Anche disegnando... Riesce a registrare a livello inconscio... E praticamente rischi veramente di... Di passare come... Come stalker... Cioè non... E tu quando qualcuno si avvicina... Che ti chiede... Ma che cosa stai guardando... Eccetera... Tu alza subito le mani e dici... No no no... Sono un animatore... Ma... 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 Guarda... Mi è successo... Mi è successo a Montreal... Che era a disegnare... E appunto... Erevo uno... Mi fece... Eh... Ma cosa fai... Eh... Non ti ho dato il permesso... E lui disse... Guarda... Ti regalo il disegno direttamente... A te... Così sei tranquillo... Però insomma... Cioè... Cioè... Certe volte anche... Può essere anche un po' un problema... Perché ti... Sei lì... Che stai... Che stai disegnando... E ovviamente sei totalmente... Assorto nel disegno... E... E poi ti si avvicina a uno... Appunto... E ti dici... Oh ma... Ma cosa... Che minchia sta facendo... Quindi... Anche lì c'era... Ogni tanto... Il rischio di prenderti una pizza... E lui appunto era... Era proprio... Fissato con le camminate... Cioè non... Cioè non... Cioè mi ricordo appunto... Che eravamo lì... E faceva... Vedi... Ecco la cam... Mi ricordo... Sto andando a mangiare in un posto... E faceva... Ecco la cameriera... Vedi... La cameriera... Stava camminando... In maniera ancora diversa... Rispetto a... Dall'altra... Beh... Lui... Un mosto... In senso... Ha fatto tantissime cose... Anche in Disney... E Dreamworks... Tra l'altro era... Era Dreamworks... Poi appunto è passato a... Prima effetti speciali... E poi... Al reparto feature... Di Double Negative... Anche il discorso... Lo vedete... Sta prendendo sempre più corpo... Come camminata... Poi si vanno ad aggiustare certe cose... Perché io adesso sto facendo un po' occhio... Nel discorso della... Dell'oscillazione... Però in realtà questo... Quando andiamo qua... Nel Graph Editor di... Blender... Perché non me l'ha preso... Eccolo qua... Nel Graph Editor di Blender... Che adoro... Ok... Perché comunque sia... È... È veramente... È veramente fatto... Molto bene... Andiamo a isolare questa qui... Per esempio... Ok... Lo vedete questa... Eh vabbè... Questa curva più o meno c'è... Allora... Questa curva... In realtà deve essere... Abbastanza... Regolare... Ovvero... Io so che il picco... Maggiore di questo... Di questo... Oscillazione qua... E poi ritorno all'altra parte... Quindi in realtà... Io non ho bisogno di quest'altra curva... Passa direttamente da una all'altra... Senza problemi... Ecco... Ho cancellato troppo... Senza problemi... Ok... Quindi questa curva qua... In realtà... Mi deve andare libera... E lo stesso... Questa... Quindi se io vado qua... Ok... Vedete questa... Questa deve andare libera... Cioè... C'ha due picchi... Sì... Devono essere... Devono essere... Ovviamente... Perché è alternata... No... Però questa... Deve essere una curva... Cioè... Io so che qua... Ho... Un picco... E qua... Ho l'altro... Questi due... Devono essere... Liberi... Ok... Quando dico liberi... Significa... Che non deve esserci nessuna... Che ovviamente... Si va ad attaccare... A quest'altra... Essendo in infinity... Quindi... Deve essere un... Una curva... Che a me mi... Lo vedete? E la stessa cosa... La rotazione... Quindi se io vado a prendere... La mia rotazione... Qua... Che rotazione è questa? La X da... Z... Vedete? Se io vado qua... Questa... Rotazione... Deve essere... Libera... E soprattutto... Deve essere regolare... Quindi significa... Che quando io porto avanti... Il mio... La mia zampa... Avrò... Un picco... E quando la porto avanti... All'altra parte... Avrò l'altro picco... Quindi significa... Che questa cosa qua... Io non ce l'ho... Beh... Deve essere regolare... Ok... Stesso qua... Già... Queste cose... Le ripulisco sul graph editor... Perché? Perché... Mi facilita la vita dopo... Ok... Tanto so già... Che queste cose... Deve essere regolari... La stessa cosa di qua... Ok... Qua... Se io vado a prendere... La mia... Rotazione Z... Che non ho fatto... Per l'altro... Quindi si può fare direttamente qua... Vedete... Quando io arrivo qua... Quando io porto questa... Zampa... Qua... Io c'ho... Un mio primo picco... Che non è così grosso... E poi quando arrivo qua... Io c'ho l'altro picco... Significa che questo... Qua... Io ho l'altro picco... Questo... Questo... Un'altra cosa... Che mi piace molto... Di... Di Blender... È il discorso... Del... Del graph editor... Che ricorda molto... Quello di XSI... E sono un fan... Di XSI... Quindi... Per me... Il fatto di ritrovare... La stessa versatilità... Nel... Del graph editor... Di Blender... È molto importante... Quindi... Io già... Me lo sono messo... Appunto... Mi sono già... Fatto... Un... Vedete... Un... Già una prima scrematura... Del graph editor... Perché so già... Che no... In quel punto... Ho una rotazione... E... Ho uno shift... Del peso... E... E... A questo punto... Io prendo... Ok... Questo qui... Lo posso... Un momento... Chiudere qua... E... Alla posa 7... Come si diceva... Ho... Il pil... Del mio soccolo... Del mio soccolo... Ecco... A questo punto io posso veramente solo prendere a questo punto le zampe perché di qua io c'ho già il mio post fatto, no? Perché alla fine diventa automatico, via via che si va... Adesso io ho il 13, il 17, ovviamente qua posso direttamente prendere solo le zampe che sono quelle che mi interessano, quindi io prendo questo, faccio il mio pil... Questo va bene, qui ho questo swing molto interessante anche qua perché mi va direttamente di punta, no? Tac! Senti proprio la punta, arriva forse anche un pochino più alto... Sì, è molto interessante questa cosa che hai detto riguardo le chiavi, no? Quindi creare le chiavi della totale animazione, questa era una cosa che effettivamente non l'avevo mai fatto e obiettivamente è molto, molto utile. È molto utile perché poi in realtà se mettiamo, arriva un supervisore e ti dice voglio questa camminata rallentata del doppio, in realtà te prendi tutte le chiavi e le sposti del doppio. Però te hai una posa, capito? Che funziona, hai tutta una posa, hai tutto un... Non è più solo un elemento che si muove all'interno di un'animazione, ma che poi quello è un metodo di animazione che si chiama layering, che è utile in alcuni casi, poi si starà a vedere quando anche negli altri workshop, i casi in cui appunto il layering è da usare. Però in alcuni casi, specialmente quando si fa un blocking, il layering è deleterio, cioè io esorto sempre gli animatori a non usare il layering, perché soprattutto in blocking, in questa fase qua, perché ovviamente quando poi devo dirgli... Devo dargli le correzioni come supervisore e si trovano un momento spersi, no? Allora qua, lo vedete, adesso bisogna stabilire dove è il punto più basso del chest e il punto più alto. Allora, il punto più basso, come si diceva, è il pil della gamba, ok? Che è in questo caso anche questo, quindi 5, 11, quindi 9, 11, 3, quindi scusate, 3, 11, ok? Quindi qua noi abbiamo, anzi il pil, fatemi vedere. Nel frattempo quando parli di chest intendi la gabbia toracea in pratica. La gabbia toracea, sì. Sì, a scanzo dei guiuci. Sì, allora, io ho bisogno adesso di andare a stabilire al 5, al 13, ovviamente il mio punto più basso, che è sempre lo stesso, più o meno. Anche qui, io preferisco lavorare al 5, questo è quello più alto, più basso, pil, no va benissimo, scusate. Quindi i miei picchi, scusate, uno più alto, uno più basso. Questo è quello più alto, ok? Quando passa e questo deve essere comunque anche questo quello più alto. Il quello più basso è quello immediatamente dopo il contatto, ovvero questo che carica, ok? Che andrà qua. Aspettate, scusate, perché mi sono un momento confuso con Maya. Qui abbiamo, è la Z, infatti non mi tornava. Perché, vedevo, c'è questa cosa fantastica per cui, in Maya, l'asse verticale non è lo Z, ma è l'Y. Mentre invece in Blender è corretta questa cosa, nel senso, effettivamente no? Lo Z è quello che va in alto e basso, quindi scusatemi. Allora, quindi andiamo a vedere il punto più alto, ok? Anzi, è questo, lo vedete, dove arriva. E il punto più basso è quello subito dopo, che è questo del contatto, ovvero il 3 e l'11, ok? Quindi io i miei 3, i miei frame 3 e 11, me le porto leggermente più bassi rispetto al contatto. A questo punto io avrò lo squash, vedete? Un altro dei principi di animazione. Sì, questo è molto interessante, perché lo squash e lo stretch, che sono i due principi, che molte volte si associano alla pallina. In realtà nella camminata e nel peso sono anche i punti più bassi e più alti. Cioè, lo squash e lo stretch si associano sempre a una deformazione di una pallina, che ci sta. Però in realtà lo squash e lo stretch è anche il modo in cui il corpo crea il contrasto, da chiuso a aperto, da alto a basso. Poi esatto, magari in Walt Disney esalta, esaspera questi squash e scratch per creare animazione particolare. Però sono sempre presenti in ogni tipo di animazione. Esatto, esatto. Anche perché poi nella realtà sono più che presenti. Questa è una cosa che molte volte anche per fare capire a registi non è facile, perché per loro lo squash e stretch molte volte è deformare. Soprattutto la pista che si è chiave. Sì, sì. Allora, qui stessa cosa, sarà contrapposto questa curva, ovviamente. Quindi abbiamo il punto più alto qua e il punto più basso qua. Perfetto, questo funziona molto bene. Quindi a questo punto noi andiamo a, vedete, andiamo a prendere il nostro set, quindi andiamo a prendere la nostra zampa, qua. Poi andiamo al 15 e la incolliamo qua e creiamo già il nostro pil. Stessa cosa, andiamo al 7, prendiamo queste. Queste sono le uniche cose che abbiamo cambiato, no? Vi ricordate? Ormai abbiamo già, e qua abbiamo il nostro 15. Ok. A questo punto facciamo una chiave di tutto. 17, 13. Tra l'altro questi sono già in ogni due, quindi è perfetto. Non abbiamo da fare nessun bake. E mettiamolo in, andiamo a salvare ancora. Ok. Noi abbiamo tutti i nostri post che ci servono. Ok. E andiamo a fare un, uno step. Interpolation mode step, constant. Cosa significa? Lo vedete adesso le curve come sono? Le curve non hanno più interpolazione, ma passano da una all'altra esattamente con delle linee. Quindi significa che io da qua avrò solo le pose che mi interessano. Allora, se questo funziona, se questo è fluido, la vostra animazione è fluida. Perché significa che qua, vedete, se andiamo a vedere, funziona già anche il discorso del peso della spina. Lo vedete? Se vedete non ho aggiunto né coda né orecchie. Perché questi sono dei dettagli e si va ad aggiungere dopo. Adesso io, questo per me è il blocking. Allora, cosa significa? Che io prendo questo, ok? Mi faccio un, per vedere se funziona, su un tre quarti anche. Mi faccio un view, viewport render animation. Quando fate render animation, quello che consiglio sempre io, è mettetelo su desktop, tanto così lo trovate subito. Almeno ovviamente che non lavorate in una produzione. Ah, tra l'altro, parentesi, questo è proprio una parentesi, se volete provare un qualcosa che si avvicina alla produzione di pipeline, ora vi dico anche un'altra cosa. Molto utile per l'animazione. Comunque facciamo così, ok? E proviamo la nostra camminata in step prima. Quindi vado qua, vado sul mio desktop, prendo questo. Non c'ho un altro lettore. Questo è un VLC che non è che mi piaccia tanto, infatti. Ok, lo vedete? Già funziona. È un trotto. Se vedete, ha lo stesso timing, ok? Dell'animazione l'avete visto. Vedete già alle spalle come funzionano? Si sente il peso. Adesso, quello che noi dobbiamo fare è prendere e cominciare a ripulire certe cose là. Questo abbiamo detto che funziona. Si fa un save incremental. Ok, adesso. Questa me la porto. Vediamo se... Qui c'è gli empty. No. Vabbè. Questo ci si porta giù, ok? Vabbè, così non c'era più problema. E andiamo a ripulire la nostra... Camminata. Allora, per ripulire la nostra camminata, vabbè, si va in... Pause. Adesso, guardate quello che faccio. Allora, intanto me la rimetto questa, ovviamente, a 17, perché ho bisogno anche di... di questo Pause qua. Questa me la metto, me la seleziono tutta e... Handle type, interpolation mode, scusate. Me la metto. Allora, questi qui sono vari... Vedi, vari easing e vari dinamiche. Quello che faccio sempre, appunto, è andare su Bézier. Per gestirla in autonomia. In questo modo io ritorno alla mia camminata con l'interpolazione. Allora, questo qui, però... Si cerca di eliminare le chiavi. Quindi questo si spinge giù e poi si eliminano queste chiavi qua. Allora, adesso, ok, io ho questa camminata che è ritornata in... 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 In spline. Quindi con le interpolazioni. E faccio una cosa senza... Che all'inizio le persone pensavano che io fossi impazzito, ma non lo facevo. In realtà serve per accelerare tantissimo il discorso di pulizia del graph editor. Allora, il graph editor. Sapete cos'è il graph editor? Cioè, il graph editor è quello che abbiamo visto prima, no? Sì, sì, sì. Che diventa veramente un macello. Allora, come... Io adoro il graph editor. Bene. All'inizio, quando sono passato al 3D, lo odiavo. Perché non riusciva a comunicare. Il graph editor è come imparare una nuova lingua. Finché non riesce a comunicare, non impari a comunicare con il graph editor. Come i nodi. Come i nodi, esatto. Se non li conosci, li odi. Bravo, come i nodi. Sono lingue che devi imparare a conoscere. Poi, quando cominci a parlare con il graph editor, quando cominci a capire come funziona una curva, eccetera, lo ami. C'è un modo... Allora, all'inizio, molti anni fa, si puliva il graph editor a mano. C'era una cosa pazzesca. Ora c'è questi vari tool, tra cui anche il... questo tool di... di Maya, che è il Post Breakdowner. Però non si farà con Animade, un altro tool che è gratuito, questo. Che potete scaricare dal link che vi ho dato prima. Questi tool li trovate tutti nel link che vi ho dato prima. L'unica cosa che ti devo chiedere è quelli che parli dei link sul Drive. Sì. Se puoi abilitarli, perché credo che qualcuno abbia scritto che non sono accessibili. Ah, aspetta, allora, si fa... Condividi, eh no, ma guarda, sono tutti... È pubblico. Ok, li proviamo dopo, eventualmente ci sentiamo. Eh, ma se no, 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 ma se no te lo spedisco. Sì, esatto, sì, senza problemi. Le ridistribuisci. Comunque, guarda, è possibile pure andare sul video YouTube e scaricarli da lì direttamente. Però anche lì, se c'è dei problemi, me lo dici, te le mando. Allora, praticamente, cosa faccio? Adesso io faccio un bake dell'animazione in uno. Perché? Guarda, ve lo spiego. Allora, intanto, vedete? Bake action, 11... Allora, il bake è un'azione che permette di avere tutte le chiavi per, ovviamente, il range e lo step di frame selezionato in questa finestra, dei controlli selezionati. In questo caso io seleziono tutti i miei controlli, ok? E gli faccio un bake. Ancora, si va su pose, animation, bake action. Si controlla questo only selected bones, bake data pose, e poi si fa boom. A quel punto io ho una chiave ogni frame. Perché ho fatto questo? Non sono impazzito, ma... Vi faccio vedere. Io adesso posso prendere le mie... Vabbè, intanto seleziono solo quelle che mi interessa, ok? Vedete questa chiave, questa curva qua? Io me la prendo, me la posso gestire intanto in questo modo, ok? Quindi questo ovviamente mi fa... Me la rispline a maniera... Vedete? Queste qui sono diverse curve come opera. E la cosa che io faccio... Vado qua su un anim aid, ok? Is to ease... E... Niente, non me lo fa. Ecco. Però, a questo punto... Perché mi fa così? Non me lo vuole fare... Vabbè, si fa con questo. Allora, lo vedete? Cosa faccio io? Ridisegno la mia curva. Allora, cosa significa? Allora, io ho preso questa curva così al volo adesso, in realtà. E' per spiegarvi il graph editor. Allora, quando io vado a ridisegnare in questo modo la curva, ok? In questo modo. Significa che io ho più decelerazione in questo punto e più accelerazione in questo punto. Dando una forte accelerazione e decelerazione, quindi facendo un forte easy in, easy out, la mia curva risulta morbida. Cosa che in natura avviene. Cioè, io ho bisogno che le mie curve siano pulite. E per essere pulite le devo pulire. Allora, prima si pulivano a mano. Quindi tutto questo cosa si faceva ovviamente manualmente. Adesso, con questi tool, è molto più comodo, diciamo. Molto più istantaneo. Io in questo modo, ora qui, vabbè, io ho preso la spina questa al volo, però in realtà. Mi sono sempre chiesto perché quando metti una chiave su Blender ti dà sempre una chiave che ha il pizzico d'inizio, lento, poi c'è la chiave vera e lento in chiusura. Eh, ti fa già easy in, easy out. Esatto. Ma perché questa decelerazione in entrata e in uscita? Perché è quello che abbiamo in natura quando si comincia un movimento e si finisce. Abbiamo easy in, easy out, che è uno dei principi dell'animazione. Non ci muoviamo mai in linear. L'unica cosa che si muove in linear sono i piedi quando si cammina in un ciclo. E ovviamente la transizione. Però in linear è una cosa costante, no? Mentre invece in realtà noi abbiamo sempre un'accelerazione easy in, easy out. Però sarebbe bello che l'andiamo a impostare noi, quando per esempio facciamo animazione, per esempio, ecco, di corpo umano, no? Ma lo puoi fare? Nel senso, se te, dovrebbe essere, ci penso, in preference, eh? Almeno, se te fai qua. Sì, 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 no, mi sono sempre chiesto perché alcune preference... Eccolo qua, guarda. Esatto, esatto, sì, sì. Se te lo fa con linear, te lo fa lineare. Esatto, linear è lineare. Mi sono sempre chiesto perché alcune preference iniziali di Blender di, diciamo, di default siano sempre... Ma questo, guarda, in tutti... In tutti i software. In tutti i software è sempre di default questi. Quando in realtà, per esempio, io molte volte quando faccio blocking metto questo in constant perché voglio che sia in step e poi lo rimetto in bezier. In linear non uso quasi mai, però anche lì... C'è molti, per esempio, che conosco, lavorano in linear, invece che in blocking, in step, e poi vanno in... Dipende. Però tutti i software partono di default con questi easy out e con, vedi, continuous acceleration, non... Anche questo... Diciamo che questo ti dà un'accelerazione continua mentre invece quell'altro ti fa... Sì, esatto, c'è un movimento inerziale... Esatto, esatto. Che, tra l'altro, questa anche invece di stare a nascondere tutte le curve Holy Show Selective Keyframe, no? Che ti permette di... Vabbè, consapevolmente abbiamo anche detto alcune cose interessanti. Sì, sì, no, ma si dice sempre cose interessanti. Quella è la cosa bella di queste demo, no? Che poi si dice sempre delle cose che poi in realtà servano, sono anche importanti perché poi è quello che in realtà, no? Ti crea anche... Ti crea la discussione, ti crea anche la curiosità poi, no? Allora, qua, la prima cosa che io faccio... Allora, prima di tutto, come ci si muove nel ripulire un'animazione? Ora, abbiamo visto un po' come funziona il Graph Editor e vediamo come ripulire questa animazione. Allora, la prima cosa che io faccio... Mi metto il mio... Dov'è? Motion Path, Calculate. Ok? E mi vedo il mio Motion Path qua. Come funziona. Ok? Per vedere com'è a livello di... Quello che noi stiamo vedendo adesso è lo sculettamento, quello che tu hai creato durante l'animazione. Sì, ecco. E lo vediamo proprio in diretta sul pezzo. Sì, esatto. Questo però ricalca anche quello che succede nelle curve. Là, se io voglio andare qua e faccio i bonus, ecco. Che è un po' meglio. Ok? Vedete? Qui, quello che io ho qua, in realtà, è quello che avviene anche qua. Ok? Dall'altro... Sì, sì, certo. È una trasposizione. Tra l'altro guardate che bellezza sto modello. Questo è... E poi FX Grace è una garanzia. Allora, quindi quello che io faccio adesso, mi prendo... La prima cosa che io voglio pulire è l'up and down. Ok? Vado qua, mi metto la mia spline operator, mi rimetto questo. Posso fare anche questo, eh. Qua, se io faccio, ovviamente, Interpolation Mode, Bézier, lo vedete? Qui avete diverse cose che potete sperimentare. Quadrate, cioè esponenziale. Ok, lo vedete? Ovviamente, se io vado qua e faccio Bézier, ritorno a quello di prima. Però avete diversi effetti, ecco, è una cosa bellissima. Cioè, io questa cosa l'adoro in Blender, perché in altri programmi non c'è. In realtà Blender è come se fosse un mix fra XSI e Lightwave, che io non so a quanti si ricorda Lightwave, però era... Ah, mi stai aprendo certi ricordi, guarda. Sua amica Lightwave era tra l'altro. Comunque, qui appunto vado a questo punto a creare il mio peso. Attenzione, guardate questo, questo è molto interessante. Come funziona il peso? Il maiale è un animale che è pesante, no? Quando lui si muove, pensate che questo è il peso del maiale. Lui fa un forte momentum in alto e poi ricade in basso, perché tutto il peso lo porta in basso. Se voi invertite questa cosa, quindi fate in alto istantaneamente e poi leggermente in basso, togliete peso a, diciamo, comunque sia alla creatura, alla fisica. Pensate alla gravità nella Luna, va bene? Vanno molto velocemente in alto e poi boom, boom, perché non c'è gravità. Quello è l'essenza di peso. In realtà, quando abbiamo peso, la gravità ci porta ad avere più peso in alto, più, scusate, tempo in alto e meno tempo in basso. Significa che per avere più peso, quello che io vado a toccare, in questo caso, sono esattamente queste curve qua, ovvero questa curva arriva molto velocemente in basso, ok? Ok, arriva molto velocemente in basso, guardate. Cioè, apparentemente in un frame, lo vedete come va in basso, guardate, boom. Lo sentite il peso adesso, come è più? Boom. E poi rimane qua, rimane qua in basso, perché deve riportare il peso in alto, ok? Deve riportare il peso in alto, quindi rimane in basso. Questo si chiama momentum, il momentum in alto. Un momentum, scusate, in basso, un momentum in alto, il peso ritorna su. Ok? E poi, boom, ritorna giù. E ritorna giù così, bam, lo vedete? E allora abbiamo questa curva bella, lo vedete? Proprio pam, pam. Questo è importante, parlare con le curve, lo vedete? Questo significa che io ho peso in basso e peso in alto. Guardate cosa succede, no? Lo tengo giù e poi lo tengo più tempo su. E questo significa che lui da questo punto a questo punto arriva molto velocemente, cade. e ovviamente qua ci si va a riallacciare. Questo sarà più un linear, in questo caso, perché si va a riallacciare, si deve riallacciare all'altra curva, no? Che diventa un infinity. Posso metterla in infinity e poi questo arriva qua. Allora, a questo punto adesso noi abbiamo già il peso che funziona meglio, lo vedete? La prossima cosa che io faccio non è finire questo, ma passare direttamente alle zampe. Perché passa alle zampe? Perché come ho detto prima, no? Ovviamente le cose principali che danno l'equilibrio sono zampe, bacino e busto. Però ovviamente la prima cosa che si stabilisce è la gravità. La gravità è l'up and down e il contatto dei piedi. Dopo posso pensare anche all'arco dei piedi. Ok? Quindi la prima cosa che faccio è anche qua farmi un motion path. Da dove si acquisisce la curva giusta? Da dove si acquisisce la curva giusta? Quale sia? In che senso? Qual è quella? Ah, questa. Eccola. Guarda, la vedi qua? La vedi questa? Questa è la zeta. Ok? Qui abbiamo queste sono le traslazioni. Queste sono le rotazioni. Ovviamente lo scale non si considera perché non bisogna scalarlo. Le traslazioni sono la zeta in alto, la y avanti e indietro e la x di lato. La rotazione, se io pigio e, è la x avanti e indietro, la y di lato e la z diciamo laterale in questo senso. quindi, quello che io faccio adesso è intanto con il la prima cosa che mi faccio è correggere visto che si può già fare una correzione a mano con il motion trail ricordo vi ricordo il motion trail è esattamente quello che avete qui sul graffeditor quindi volendo si può già vedere certe cose come funzionano. io voglio che questa curva sia bella bene con le frecce vi muovete frame per frame aspetta con le frecce vi muovete frame per frame sulla sulla timeline quindi è più questa cosa non la conoscevo del fatto che si può vedere direttamente il loco è fantastica questa cosa il motion editor tra l'altro è quello che funziona meglio funziona molto meglio rispetto a Maya funziona molto meglio rispetto a altre altri software io su io su blender devo dire che mi sono riveduto tanto in senso che io è anche vero che prima blender era molto acerbo negli ultimi quattro anni hanno fatto un salto incredibile io sto aspettando il modulo di animazione adesso perché quello per me sarà veramente il punto la cosa è che cambierà tanto anche l'uso di blender in maniera più diciamo più produttiva no? a parte vabbè che poi alla fine Ubisoft Epic Games lo usano già a livello di produzione e anche per esempio altri studi in Canada Svezia eccetera lo usa però penso che con il discorso del del modulo di animazione lì veramente avremo blender che svetterà a livelli stratosferici comunque questo qui appunto il motion editor è fantastico perché lo vedete cioè si riesce a correggere la la curva immediatamente eccolo qua tac questo a livello di spacing è importantissimo lo spacing lo spacing è fondamentale in animazione un altro dei principi dei 12 principi perché praticamente lo vedete è lo spazio che intercorre fra i vari pose e che dà l'illusione dell'accelerazione e decelerazione perché ovviamente più lo vedete più ampio è lo spacing come in questo punto più c'è l'accelerazione e qua ovviamente decelera un momento per poggiare il piede no e questo è dato da appunto lo spacing e come otteniamo questa visualizzazione hai detto attraverso pose motion path calculate allora se voi prendete un controllo qualunque controllo prendete gli attivate con il motion path al momento che voi lo vedete levate il controllo ce l'avete sempre se voi cambiate controllo però se voi selezionate un altro controllo quello sparisce se voi volete ripulire tutto fate un clear volendo questo è fondamentale per me il motion path è fondamentale perché vi permette di vedere per esempio questo funziona già bene anche a livello di è sempre sulla stessa linea quindi va bene si vede proprio il loco l'animazione sì perché poi se si va a vedere qua in realtà se io prendo il mio zed quindi la mia vedete in realtà io ho già questa ripulità certo ovviamente qua posso dargli io sono sono della scuola dei micro delle micro curve ovvero anche se non si vede si percepisce quindi anche se questo non si vede però voglio che sia pulito ok questo lo rimetto magari vi faccio un nodo del genere ok a questo punto lo vedete io ho il mio lo vedete cambia proprio a livello di fluidità cioè l'animazione quando comincia ad essere pulita vedete via via si raggiunge fluidità e poi un'altra cosa che faccio è passare all'altra zampa ok quindi io vado qua mi riattivo i miei bones faccio un clear così sono tranquillo poi vado qua per esempio Maya per discorso il motion path quando si attiva il motion path così è pesantissimo non si riesce a lavorare io in questo momento sono con un po con un po ho preso questo però sì sono con prendiamola per essere sicuro sono con un rig che è tutto completamente texturizzato ok e sto e sto lavorando a un tempo reale quindi stessa cosa si va qua qui vedete posso vedere anche come si attacca qui per esempio voglio dargli una curva più carina ok quindi quindi madonna mi sono distrutto il microfono quindi significa che qui ok io prendo voglio dargli questa curva del movimento perché poi arriva qua tung e poi qui ovviamente atterrano e poi ricomincio dall'altra parte vedete e vedete e vedete chiaramente come si attaccano le due cose no perché questa andrebbe poi qua quindi abbiamo proprio un stessa cosa qua io posso andare qua tanto funziona tutto il resto molto bene quindi posso solo avere la curva questo è anche ottimizzare i tempi perché molte volte ci si concentra su dei particolari dove però in realtà se noi si riesce a già alla base a a tenere tutto pulito è tutto logico per esempio io non ho bisogno di vedere le altre curve perché tanto vedo già tutto qua però voglio che magari questa che l'up and down sia pulita che in realtà lo è già perché non c'è niente di particolare quindi anche qua vado a vedere come funziona si fa un altro save incremental ok voglio almeno farvi la parte della camminata poi Ale se te sei d'accordo per la prossima volta possiamo continuare questo ok e poi per il terzo perché ovviamente workshop saranno tre e poi dimmi anche te Ale se poi ne vuoi fare un altro io sono a disposizione e lo sai appunto non ci sono problemi si può finire questo del quadrupede è molto interessante che poi tra l'altro il maiale è un animale che non è comune come come movimento non si vede molti maiali a giro insomma sono più gatti cani eccetera e poi appunto per il terzo volevo fare una creatura lata come un drago o cose del genere ovviamente la gestione la diciamo la la segui tu non ci sono problemi ne parliamo in privato senza problemi ok perfetto e comunque appunto si poi la prossima volta si continua sempre questa 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 animazione vedrete allora poi come si combinano certe cose eccetera allora perché appunto sono già l'undici e mezzo tra l'altro sto andando e ditemi se volete che mi soffermi su su delle cose se avete capito non vabbè ci sarà anche la registrazione magari che vi si assolutamente con la registrazione poi si sbobbinano anche io stesso sbobbinerò tutte quelle che sono le parti di interesse se vuoi lasciare un po' di spazio ad eventuali domande sì guarda io direi facciamo comunque è notevole molto cioè siamo partiti ricordo da un magliele fermo adesso cammina quindi sì le creature tra l'altro sono sono bellissime tra l'altro guardate qui vedete anche gli fps sono ovviamente quasi in tempo reale non cambia in realtà non perde tantissimo no le creature sono bellissime perché perché a me mi piace l'animazione in generale mi piace animare quello ovviamente se no non l'avrei fatto per quasi 30 anni il prossimo anno sono 30 anni quindi ovviamente mi adoro l'animazione non solo perché vedete poi spazio su tante altre cose sono molto curioso molto mi piace sporcarmi le mani anche in altre cose il nostro prossimo workshop riguardava creature fantastiche non so se sì però però a questo punto direi di chiudere questa che magari così si porta alla fine questo qua e e poi direi creature fantastiche di farlo nel terzo a questo punto si può fare anche un po' più lungo se vuoi si può fare anche una giornata di workshop a questo punto ci si prende un poi appunto se ne parla in privato ci riempiamo qua in privato se nel frattempo qualcuno ha domande riguardo fino ad oggi insomma così ci salutiamo in maniera tale che bene io posso dire tranquillamente che è stato veramente molto interessante mi hai aperto gli occhi su tante cose purtroppo in community ci sono tantissimi modellatori e davvero pochi pochissimi se non inesistenti animatori e questo è un peccato perché il 3D è animazione in generale ed è un vero peccato perché si inizia sempre a modellare è molto difficile imparare a modellare quando si comincia a prendere magari dimestichezza con la modellazione magari se non lo si fa di mestiere poi diventa il passatempo e non si passa mai all'animazione è che è che la modellazione è bellissima la modellazione eh ma l'animazione però è animazione allora l'animazione ti posso dire che ovviamente ho fatto di tutto ho fatto rig io sono rig era anche quindi ho fatto rig ho fatto lighting grooming modellazione clothing ne ho fatte tante però l'animazione è sempre quella più difficile benché la faccia da ormai da da 30 anni perché in animazione non c'è mai una scena semplice c'è quest'errore degli animatori molte volte di considerare una scena semplice ma io credo che sia più che altro la difficoltà io lo posso dire la mia più grande difficoltà credo che sia quella di tanti è il ragionamento delle chiavi cioè andare a studiare l'animazione significa come se andassi nuovamente a studiare la modellazione quindi solito di aver perso tantissimo tempo nello studiare magari l'animazione e andare a il suo pensiero di dover rimettere a studiare tutta quella che è l'animazione diventa un vero macello spesso ecco il concetto di che il graph editor credo che sia sconosciuto a tutti cioè tutti lo conoscono tutti lo evitano lo evitano come i nodi tutti sanno che i nodi esistono ma tutti li evitano esatto il graph editor è una delle bestie nere io penso che io parlavo in DreamWorks non hanno il graph editor in DreamWorks hanno un software che si chiama Primo che interpola in maniera intelligente le chiavi come un'intelligenza artificiale che interpola le chiavi loro non hanno graff editor loro praticamente animano senza poi passare al graph editor le volte che ovviamente poi la gente dalla DreamWorks passava in altri studi doveva lavorare con Maya o altri software che avevano il graph editor io vedevo la gente in crisi gente che comunque aveva animato un DreamWorks in maniera professionale su un film incredibile che entrava in crisi con il graph editor perché non riusciva a capirlo cioè nel senso si cerca sempre mentre invece in realtà il graph editor è come è una trasportazione eh sì lo strumento ti permette di aggiungere dettagli quando ho lavorato su House of the Dragon io molte volte agli animatori gli chiedevo il twitch delle palpebre no? che ovviamente non può fare a mano queste sono cose che sul graph editor le fai in maniera sottile e che cominci a mettere alla fine ma soprattutto il graph editor ti permette di gestire il peso in maniera totale perché te lo visualizzi cioè te visualizzi questa curva infatti anche molte volte do dei retake come supervisore eccetera disegno proprio la curva sul sul monitor no? e dico guarda fammi una curva di questo genere e il graph editor magari lo lascia più morbida fammela più dura e una volta che appunto riesci a capire il graph editor ti si apre un po' tutto un mondo perché poi in realtà il graph editor è quello che ti fa la differenza tra un'animazione pulita e un'animazione che vedi che potrebbe avere il potenziale però rimane sporca quindi però in realtà l'animazione per me è qualcosa che se spiegata bene in realtà non è difficile devi spiegarla bene perché molte volte specialmente anche le scuole fanno confusione partano da delle basi che magari di libri che però non riescano veramente a interpretare mentre in realtà basta spiegarla bene basta trovare la chiave per spiegarla e poi continueremo a parlare nel prossimo nel prossimo workshop bene sì volentieri accetto ben volentieri la tua proposta di continuare con quello che stavamo facendo e traslare gli altri due poi ne parliamo in privato ci mettiamo d'accordo mi ricordo che le prime volte che facevo un'animazione si muoveva anche la camera forse perché animavi anche la camera forse me ne però e forse il graf di tor l'avrò usato proprio per levare la camera quando mi dava fastidio che non sapevo neanche come si chiamava eh perché allora la camera la puoi tra l'altro penso bloccare comunque quello che faccio di solito io per evitare cose è subito nasconderla non so se hai visto se la levi da mezzo e poi quando hai finito la gestisci me la prendi e me la cosa e me la la gestisci sì perché tanto non ti serve fino a quando non non ritorni in realtà sulla camera no quindi e eviti di animarla in questo caso perché altrimenti ce l'avresti qua in mezzo in questo caso era qua però quindi scusa tu come libro sei partito a volte usi delle scorciatoie come? delle scorciatoie di tastiera a volte perché fai dei movimenti e noi non capiamo come le fatti allora alt e tasto tasto vabbè questo è per muoversi nella viewport quindi tasto sinistro e tasto destro per muoversi ma io ti chiedevo come come libri cosa sei partito con quelli della Disney dei nove ma io guarda sono sono un po' una perla rara nel allora io ho cominciato animazione per sbaglio in realtà ero un illustratore io a 16 anni cominciavo a lavorare nelle agenzie pubblicitarie come illustratore aerografo e niente veramente a 19 anni avevo bisogno di lavorare e volevo stavo cercando un illustratore due miei amici che erano animatori in un piccolo studio a Firenze avevo fatto la scuola insieme a loro e mi fanno guarda noi lavoriamo in questo studio quindi ho portato il mio portfoglio e illustrazione e loro mi disse vabbè noi siamo uno studio di animazione io disse pagate proviamo quindi sono partito da lì io ho fatto architettura a Firenze come? ho fatto architettura a Firenze eh ma beh quindi ho laureato e c'era di fianco di fianco all'accademia volevo fare anche l'accademia ma non potevo perché con architettura non potevi fare anche l'accademia no era sì ho fatto il studio d'arte ho insegnato anche grafica pubblicitaria eh io ho fatto il studio d'arte anch'io e facevo artigrafiche anch'io ho fatto grafica architettura di tutto eh ma infatti io passavo cioè per me ho capito artigrafiche io ero passato da litografia aerografo a io ho lavorato con la linotype col piumbo eh ma anche noi noi si faceva all'estito d'arte quindi per me cioè capito nel mio futuro io mi vedevo come illustratore acquerello poi in realtà avevo fatto delle animazioni su Amiga con Deluxe Paint niente di che però Sprite quindi avevo il concetto animazione una volta una volta cominciato a animare vabbè guarda io avevo un anno più avanti Marzio Lucchesi non so se lo conosci com'è no beh so che Edward De Bono quando ha fatto scusate nel frattempo blocco la registrazione visto che ci stiamo perdendo in chiacchiere aveva detto che per lui era il miglior animatore italiano e lui e lui e lui